Il medico del pronto soccorso dell'ospedale di Nociara Inferiore è contagiato da Covid-19 è l'annuncio del sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, città d'origine del Camice Bianco. Il sanitario, domiciliato a Salerno, è ora in quarantena nella sua abitazione. Negativi altri sanitari già sottoposti a tampone negli scorsi giorni. Come detto, si sta procedendo a scaglione per il pronto soccorso gruppi di 4-5. Attesi per le prossime ore, altri risultati. C'è chi invece deve ancora effettuare il tampone. Si procede giorno per giorno. Test anche per alcuni camici bianchi del reparto di medicina venuti in contatto lo scorso giorno con un paziente sospetto. Anche in questo caso si attende il risponso. In attesa di risultato, anche alcuni pazienti ricoverati in malattie infettive, tutti dell'agronocerino, aspettano lì in isolamento il risponso. È giunto invece nella tarda serata di ieri il risultato del tampone di un anziano ricoverato come caso sospetto. È negativo ed è stato trasferito nel reparto di medicina. Restano ricoverati anche due contagiati accertati, due donne. Tra queste vi è la paziente di nocciera inferiore, risultata ieri positiva al covid-19. La 76enne è in buone condizioni. Il suo stato non desta preoccupazione. Meno arrivi intanto in tendo struttura. È stato così ieri pomeriggio, questa notte ed anche stamani. Una circostanza che fa buon sperare. Solo due persone si sono presentate nel pomeriggio di ieri alla tendo struttura dell'Umberto I. Una di queste è stata sottoposta al tampone. Nessun ingresso in trend, invece, nel corso della notte appena trascorsa. Una tenda fredda, gelida. Gli infermieri e gli operatori sanitari del pronto soccorso che sono lì di turno non osano chiederlo apertamente. Sono abituati al sacrificio. Ma se anche a nocciera, come a Sarno, giungesse un container, ne sarebbero grati. E ricorderete la storia che vi abbiamo raccontato nel TG di ieri. Marito e moglie ricoverati entrambi malattie infettive a nocciera inferiore. Entrambi in buone condizioni. Lui più volte ha provato in questi giorni di ricovero a raggiungere lei nella sua stanza per un saluto. Ora il destino li separa, almeno per il momento. Il marito è stato trasferito a Scafati. Lei resterà nocera ancora un po' prima di andare a sua volta allo scarlato. Dunque si riuniranno, ma ancora in corsia.